Un grande applauso! Grazie, grazie mille. Adesso il momento è topico. Vi presento il gruppo di ottoni romani. Come vedete sono tutti romani. Si vede proprio dall'espressione. Grazie, potete accomodarvi. Grazie, molto gentili. Bene, adesso faremo un programma abbastanza brioso. Partiremo con un brano rinascimentale per passare poi a un brano scritto appositamente per questo gruppo che è da un compositore del Novecento e poi ci saranno delle sorprese. Va bene? Grazie intanto. Grazie a tutti. 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 Grazie. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.